Ciao ragazzi, è il nostro Cirunso che oggi vi farà compagnia per due minuti! Come potrà mai un milanese capire una parola come a cazzim? Ecco appunto, oggi vi andremo a spiegare, quindi per tutti coloro che non sono del sud o di Napoli e non capiscono la parola, che cosa significa cazzim? Questa parola che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, il grande produttore cinematografico di grampico e piccolo è, ha detto più volte all'interno dei programmi televisivi e sportivi. Oggi alla squadra è mancata la cosiddetta cazzim? Partiamo con il presupposto che la parola cazzim non è assolutamente una parolaccia. Vabbè, al nord ormai sono tutti terroni, quindi a maggior parte sa cosa significa. La parola cazzim è il cercare di prevalicare su tutti, a ogni costo, danneggiandoli. In poche parole, chi è una cazzim è quella persona che con la malignità si riesce ad aggiungere anche la cattiveria. Dice a milanetti e a cazzim, ma che significa cazzim? Ma non tu puoi dire che sti a cazzim? Ecco, appunto, e come ci ha anche detto il nostro grandissimo connazionale e mio compatriota napoletano Alessandro Siani, io vi saluto e vi invito a cliccare sulla mia pagina Cirobuono Perriccio e in più sulla pagina YouTube Cirobuono 1984, così per restare aggiornati sulle prossime parole napoletane da insegnarvi. Ciao a tutti!